Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, nacque il 27 gennaio 1960 al Presbyterian Hospital di Hollywood, figlie di Anita Parisi, il cui padre Frank Parisi era originario di Terravecchia, in provincia di Cosenza, e Norman Werby. I genitori si separarono quando la showgirl aveva poco più di un anno, e non vedrà più il padre fino all'età di 28 anni. I due riallacceranno i rapporti solo quando lei, divenuta celebre, lo inviterà in Italia per un ricongiungimento. Nonostante gli ostacoli, trascorse un'infanzia serena a Sacramento, California, in compagnia di Tiffany, la sorellastra minore, nata dalla seconda unione della madre, vecchia del C, muori male, ti ammazzo la famiglia e ancora spero che la sera tua figlia prenda una pistola e te spari. Solo soltanto alcuni commenti social che Eder Parisi posta su Instagram, denunciando di aver ricevuto numerose minacce di morte, dopo aver criticato Simone in arte il biondo nel corso della trasmissione Amici 17 di sabato 21, aprile. In difesa del giovane è intervenuta nei giorni scorsi anche la madre di rapper. Ignorare il male equivale ad esserne complici. Martin Luther King scrive la showgirl. Anche in questa settimana ho assistito in credula a una violenza nei confronti miei e della mia famiglia che non ha nessuna giustificazione. Ne è complice chi la ignora, chi pretende di spiegarla, con la provocazione, chi cerca inutile visibilità e chi la concede inseguendo stupidi scoop, chi la alimenta con l'arroganza delle proprie idee e il discredito di quelle altrui. Ciascuno si assuma la propria responsabilità e fermi questo ignobile gioco al massacro prima che accada l'ennesima tragedia attribuita all'iniziativa di uno squilibrato solitario con tanti complici conclude. Ringraziando la casa di produzione fascino che ieri le ha espresso massima solidarietà.